Sono Michelangelo Di Toma, ma vi introdurrò nel mondo di Wilson & Morgan con un whisky. Beatan. Beatan l'ho pronunciato all'italiana praticamente. In realtà questa parola è una parola magica, particolare per chi ama il mondo del whisky. Isgebetta era la parola che veniva utilizzata in Scozia per definire l'acqua di vita, acquavite. L'acqua di vita era un prodotto che veniva fatto utilizzando i cereali, lavorandolo in una particolare maniera, si otteneva una birra e a quel punto la si beveva anche. Con la birra che rimaneva, non avendo elementi per poterla conservare, la si faceva bollire. Ho semplificato ovviamente la produzione del whisky, non è proprio così, ma tanto per lanciarvi un'idea. Questo è il mondo che ci introduce, il modo che ci introduce al mondo del whisky. Oggi whisky, acqua di vita, Isgebetta, diventa per noi un vestito da indossare per una occasione speciale. Beatan, lo pronuncio così, anche se la pronuncia non è giusta, ma mi piace pronunciarlo in questo modo, Isgebetta, è un prodotto di Wilson & Morgan, distillato nel 2013, imbottigliato nel 2021. I gradi alcolici sono 46. Ora, il whisky viene messo nelle botti a 63 gradi. Nel corso del tempo il whisky evapora, ma evapora anche l'acqua. La gradazione alcolica si abbassa. A quel punto, una volta che il whisky è arrivato a piena maturazione, imbottigliato nel 2021, una volta che il whisky è arrivato a piena maturazione e quando Fabio Rossi e i suoi selezionatori decideranno che il whisky è pronto, a quel punto viene aggiunta dell'acqua pura disorgente per portarlo alla gradazione alcolica a cui noi lo degusteremo. Questo whisky rappresenta l'identità non di una particolare lavorazione. Bitan non è il nome di una distilleria. Bitan è un nome di fantasia che è stato utilizzato per una distilleria segreta. Siamo nelle Highlands, le Terre Alte. La Scozia è divisa sostanzialmente in cinque grandi regioni. Le Lowlands, le Terre Basse, le Highlands. C'è lo Speyside, che è un piccolo distretto a nord-est della Scozia, in cui c'è oggi delle cento distillerie e la metà delle distillerie presenti sono e lavorano in quella zona. Gli altri distretti sono il Campbell Down e soprattutto le Isole. Nelle Isole ci sono i whisky più torbati. La torba è un elemento naturale, viene utilizzato per tostare il cereale. A questo punto il cereale tostato avrà una caratteristica leggermente fumosa. Quello che noi è stato riproposto e vogliamo riproporre per voi il vestito adatto per questa speciale occasione è quello di degustare un whisky che ha una media torbatura. Siamo nelle Highlands, le Terre Alte. La distilleria è segreta, non la posso rivelare, neanche sotto tortura. Questa distilleria però è una distilleria che produce in piccole quantità con un sistema di produzione, oserei dire, quasi artigianale. Tutte le distillerie sono artigianali. Ma loro producono proprio come una volta. C'è ancora mio nonno che lavora nella distilleria. Bene, una volta che il whisky viene prodotto, Wilson e Morgan ha acquistato quella botte, è diventato proprietario di quella botte, è invecchiata per tutto il tempo necessario, lo imbottigliano e lo presentano a noi per una occasione speciale. Come sempre faccio io quando andiamo a degustare i whisky e invito anche voi a farlo a casa, con gli amici, fatelo perché tutti i sensi vanno coinvolti in una degustazione. Si prende il bicchiere, si guarda il colore, qui siamo di fronte ad un giallo oro non molto acceso, ma anche l'occhio vuole la sua parte, ma forse anche l'udito vuole la sua parte. Quando versiamo il whisky nel bicchiere e poi sentiamo il rumore del whisky, già ci prepara per entrare nel mondo del whisky, che ci accoglie. Il vestito in cui noi entriamo, indossiamo quel vestito per poter vivere questa occasione speciale. A questo punto avvicineremo il bicchiere al naso. Probabilmente, anzi sicuramente, l'alcol brucerà un pochino le nostre narici. A questo punto io vi confido un piccolo segreto. Soffiate nel bicchiere. In questo modo l'alcol se ne va. Tirando su con il naso, quello che riusciamo a sentire noi sono dei profumi. Erbaceo sono delle parole che io dico benissimo nel momento in cui bevo whisky, siccome ne ho bevuto abbastanza, è più facile per me pronunciarle. In realtà tutto quello che noi sentiamo nel bicchiere riusciamo a crearlo noi, a idearlo noi, perché viene dalla nostra memoria del cuore, quella che ci portiamo dietro fin quando siamo bambini. Soffiamo nel bicchiere, sentiamo su con il naso, è un whisky piuttosto delicato. La nostra speciale occasione ha bisogno di un whisky delicato? Questo. Ha bisogno di un whisky non troppo impegnativo? bitan. Il sentore erbaceo è fragrante, è la parte che più mi coinvolge. E qualche cosa, ecco, forse ho bisogno di rilassarmi in questo momento della mia giornata. Questa mia occasione speciale ha bisogno di questo whisky per farmi sentire tranquillo, ma anche sorridente con me stesso. Questo whisky mi invita al sorriso. E adesso lo assaggerò con voi. Come si degusta un whisky? All'inizio, per conoscerlo, come si dice tra gli amici, ci si saluta. Ciao, come stai? Benvenuto. Come va? Quanto tempo che non ci vediamo? Si sorride con gli occhi, si sorride con il viso. Ecco, il whisky ci fa fare questo nella stessa maniera. Un grande artista parla con il whisky, ma è perché ha bevuto molto whisky. Io non ancora. Però, quando ci avviciniamo a questo whisky, il whisky ci dà delle sensazioni, delle emozioni, che si collegano con la nostra memoria del cuore. E quando lo assoggiamo, questo whisky ha questa intensità, questo colore. Ritorna la fragranza, ritorna la morbidezza, ritorna quell'erbaceo. Ed ecco che arriva nella sua struttura, un po' ruvida, se vogliamo. Forse quest'abito che sto indossando questa sera è un po' un abito mezza stagione, non è proprio estivo. Bene, quest'abito che ho indossato, questi profumi, questi aromi, vengono fuori e mi mettono a mio agio. Mi sento più rilassato. Avvicinerò di nuovo il bicchiere al naso, sentinò di nuovo altri profumi. Un profumo di erba piuttosto evidente, ma anche un leggero profumo di torba. Che cos'è la torba? È difficile da descrivere. Molte volte si usano tante parole particolari. Molto semplice, fumo. Fumo un po' delicato, un po' particolare, un po' caratteristico. È un fumo che ha una sensazione particolarissima. Bene, ogni whisky viene lavorato con una certa quantità di torba. Quelli torbati, ovviamente. La maggior parte dei whisky scozzesi non sono torbati. E qui ci aiuterà, ci aiuta, Wilson & Morgan, quando in etichetta scrive se il whisky ha più o meno quantità di torba. Altrimenti lo si trova nella scheda che Wilson & Morgan mette a disposizione di tutti quelli che vogliono sapere qualche cosa di più di quel whisky. Questo whisky nell'etichetta ha scritto anche Sherry Wood Finish. Finish in oloroso. Il whisky invecchia in barili ex barbon. Barili botti che hanno già avuto il barbon come whisky ad invecchiare. Una volta che il whisky è rimasto ad invecchiare per il giusto periodo di tempo che Wilson & Morgan decide e ritiene opportuno, a quel punto il whisky viene messo in finitura, rifinito, diciamo così. Passa un periodo più o meno lungo, dai sei mesi a un anno e me, ai dieciotto mesi, per poter avere e acquisire quelle caratteristiche di una botte differente. Quindi si passa da una botte ex barbon ad una botte ex Sherry. Ex Sherry oloroso finish. Ed ecco che le sensazioni e i profumi di un vino liquoroso come lo Sherry in questo momento coinvolgono pienamente la mia bocca. Sento le sensazioni, sento quel leggero fumo. È una danza. Forse è il vestito giusto per questa sera o questo momento in cui mi sento particolarmente felice, contento con me stesso, in cui voglio danzare con il whisky. Ecco, Dancing with the Whisky. Questo è Beaton per Wilson & Morgan. Grazie a tutti. Grazie a tutti.